Siamo qui con David Miani, membro di Sosteniamo L'Ancona, a lui chiediamo di farci due parole sulla due giorni che si è tenuta in L'Ancona organizzata da supporters in campo, chiedendo anche lui le finalità di questo incontro e un po' anche un bilancio di com'è andata. Ciao Silvana, ciao a tutti, è stato un incontro importante perché a L'Ancona per la prima volta si è tenuto l'incontro che porta all'Assemblea nazionale dei trust dei tifosi per formare l'associazione nazionale, è un passaggio importante perché un primo passo verso quello che potrebbe essere una considerazione di quello che è il ruolo dei tifosi all'interno delle società e per la prima volta intorno allo stesso tavolo c'erano anche gran parte delle istituzioni del calcio che conta, segnale che questa può essere sicuramente una strada da percorrere anche se la strada è sicuramente molto lunga. Ecco, vogliamo ripetere quali erano le istituzioni del calcio rappresentate? Dunque sì, c'erano i rappresentanti della Lega di Serie B, la Lega Pro, c'era William Gagliard che è il senior advisor della UEFA, il vice di Michel Platini, era prevista la presenza di un rappresentante dell'osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive che come sappiamo benissimo ha una voce abbastanza importante ed inquietante all'interno del sistema calcio, era presente un rappresentante della supporter direct che è l'organizzazione inglese che in Gran Bretagna cura proprio questo aspetto della partecipazione dei tifosi, della formazione dei club, sappiamo che in Inghilterra questo è un fenomeno che ha raggiunto veramente dimensioni importanti, c'era Stuart Dykes che è colui che per la UEFA si occupa dello slow, il supporto dell'ison officer, la figura che diventerà obbligatoria è già obbligatoria in Italia anche se solamente sulla carta e da quest'altro anno diventerà un segnale distintivo, un ulteriore passo verso un dialogo oppure, come preferiscono dire alcuni, orientare al dialogo un certo tipo di rapporto che potrebbe aiutare a risolvere delle problematiche con la tifoseria. Quindi è stata voluta la scelta della presenza delle istituzioni e su questo ti chiedo un po' quali sono le aspettative future di questa presenza, nel senso se effettivamente è un rapporto che porterà a un maggior dialogo, a un maggior confronto, a una maggiore discussione e in merito a questo quali sono state anche le varie posizioni dei presenti? Ma allora, come dicevamo prima, sicuramente il fatto che le istituzioni del calcio fossero presenti, le istituzioni, insomma i rappresentanti del calcio fossero presenti, segnala che c'è interesse verso quello che viene promosso in Italia da alcuni anni, da alcune associazioni che in questo caso erano presenti quasi come numero su 18 realtà, fosse alto perché probabilmente ormai a livello europeo arrivano sempre più segnali importanti, indicazioni decisive su quello che potrebbe essere una strada non per risolvere ma che potrebbe aiutare a risolvere una parte delle problematiche del calcio in Italia. In Italia il calcio ha una serie di problemi che possono e dovrebbero essere affrontati in maniera diversa, perlomeno come approccio. È evidente che alcuni approcci che sono stati adottati da una decina di anni a questa parte non hanno prodotto risultati importanti, tutti intorno a noi ci sono paesi come Germania, Spagna, Inghilterra che hanno raggiunto risultati importanti seguendo altre strade, forse è il caso di cominciare a prendere esempi e siccome il supporter in campo è promotrice proprio di questi esempi ecco che c'è una sovrapposizione, ci sono interessi e c'è stato dimostrato anche in maniera pratica con delle proposte che adesso andremo a vagliare da qui a breve. Ecco un'ultima battuta, se ti posso chiedere un punto significato che ha per te la parola partecipazione quando parliamo di azionariato popolare? Ma dunque è un concerto che sicuramente deve fare la sua strada nella mentalità di tanti tifosi. A noi fa piacere sempre sottolineare come il fatto che lo sport oltre quello che è diciamo l'aspetto più superficiale, più noto del giro vorticoso di denaro, semplice attività diciamo così agonistica, ha anche altre potenzialità che forse sono anche più importanti. Nei altri paesi come per esempio ripeto in Germania ed in Inghilterra l'aspetto sociale e di inclusione, di partecipazione dei tifosi e della società all'attività sportiva e dello sport all'attività sociale ha prodotto risultati che sono sotto gli occhi di tutti. In Italia questo è un patrimonio che non viene sfruttato e al di là del fattore controllo e salvaguarda della passione che è la prima scintilla che muove le associazioni dei tifosi a partecipare, questo è l'aspetto che rimane più profondo e l'aspetto che andrebbe ancora più sviluppato perché è il vero patrimonio dello sport.